Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Incidente frontale sul viale 1 maggio per un colpo di sonno Tre veicoli coinvolti ma nessun ferito grave Padre Silvano Bracci che svelò il mistero del frate Murato chiede che il Beato Antonio rimanga a Fano Ecco lo stato di degrado e di incuria in cui versa uno dei simboli della città la Fontana della Fortuna Movimento 5 Stelle Fano critico verso l'amministrazione Seri su mobilità sostenibile e città dei bambini A Montecchio di Vallefoglia il via la prima edizione della mostra a mercato del tartufo pregiato e dell'olio nuovo Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia La cronaca, incidente frontale in viale 1 maggio a Fano alle 15.40 di oggi fortunatamente senza feriti ma che ha visto il coinvolgimento di tre mezzi è probabilmente un colpo di sonno la causa che ha fatto invadere la carreggiata opposta all'altezza della centrale idroelettrica dell'Enel da parte di una Golf condotta da un uomo di 59 anni residente a Senigallia che procedeva in direzione Ancona L'urto frontale con un furgoncino fiorino di una ditta con a bordo due operai di Pesaro che procedeva in senso opposto è stato quindi inevitabile per il contraccolpo il fiorino è stato sbalzato contro l'auto che lo seguiva a breve distanza nessuno degli occupanti veicoli però è voluto ricorrere alle cure dei sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto assieme a due pattuglie della polizia locale che oltre ai rilievi hanno anche regolato la circolazione i mezzi incidentati sono stati rimossi con l'utilizzo dei mezzi di soccorso e dopo il mistero svelato su di chi fossero i resti mortali all'interno di quella cassa di zinco trovata murata in un intercapedine tra l'ex convento e la chiesa di Santa Maria Nuova ora padre Silvano Bracci che fu proprio lui a dire attenzione guardate che lì se buttate giù il muro c'è la salma di un frate chiede che ora il beato Antonio rimanga a Fano sentite padre Bracci allora i dubbi ora sono stati sciolti quindi sappiamo che i resti che sono nella cassa di zinco sono del beato ma che figura era? Chi era questo beato? le poche notizie che anch'io so molto sommari sono del nome e della missione che lui aveva compiuto presso questo re Alfonso d'Aragona il quale l'aveva mandato poi a Papa Martino V a Roma e quindi siamo sempre nella prima metà del Quattrocento però insomma il processo di beatificazione è un processo un po' particolare questo sarebbe un processo di conferma del culto eventualmente perché dovrebbe confermare una devozione mantenuta lungo i secoli il mio auspice è questo perché deve partire da Fano se è morto a Fano con devozioni i frati l'hanno conservato fino adesso la chiesa di Santa Mario 9 comunale allora il comune che è responsabile provveda a metterlo nella chiesa di San Pietro in Valle provvisoriamente poi quando deciderà il comune come fare cosa fare allora lo trasferiranno nuovamente a Santa Maria Nuova anche sulla cassa di zinco dove l'hanno preso dove è stata reperita c'è un po' di mistero in realtà c'è scritto pompe funebre e tonnelli pesaro ma nessuno si ricorda che proprio davanti alla porta del convento di Santa Maria Nuova in via Serravalle c'era il deposito delle casse funebri della ditta Tonnelli di Pesaro quindi c'era anche un rapporto tra la ditta e i frati è chiaro che ha attraversato la strada per farsi dare una barra di zinco e mettersi i resti di questo santo frate molto semplice ed ora come sempre facciamo diamo seguito alle vostre segnalazioni ce ne sono giunte tante nel tempo per diverso tempo su uno dei monumenti più importanti della città oggi noi siamo andati in piazza proprio per constatare e guardare qual era lo stato e qual è lo stato in cui versa uno dei monumenti più importanti della città di Fano è univocamente considerata uno dei simboli identificativi della città di Fano seconda forse solo alla porta augustea fotografata da turisti e da gente locale messa a simbolo cittadino nei siti web istituzionali ed in locandine promozionali della città è messa in ogni dove come simbolo cittadino portata a bandiera dell'identità di Fano anche per il nome stesso è la statua che la sovrasta appunto della dea della fortuna è appunto la tanto amata fontana della fortuna che campeggia sul lato occidentale che fiancheggia Corso Marteotti di piazza 20 Settembre ricca di storia e di passato le cui prime notizie si hanno attorno al 1550 è interamente rinnovata nel 1697 dal veneziano Ludovico Torreschini la statuetta di bronzo poi che vi campeggia sopra quella che vediamo noi è una copia l'originale è conservato nel musei civici è stata collocata solo nel 1611 e andò a sostituire una grande vasca sempre in bronzo questo tanto sbandierato simbolo cittadino ci si aspetta che sia oggetto da parte dell'amministrazione di amorevoli e puntuali cure che la tengano sempre in gran forma e pronta a dare il meglio di sé in ogni immagine che la racchiuda e che parli di fano nel mondo niente affatto lo status del monumento principe cittadino è agonizzante come ci hanno fatto notare diversi cittadini orgogliosi dell'intentità locale ma doloranti per le mancate attenzioni che gli vengono riservati pezzi mancanti, bordi sbeccati, cannelle senza acqua e parti monumentali come le grandi conchiglie spezzate in più punti ed il basamento poi inesistente in alcuni punti e fattiscente ostaggio dell'erbaccia in altre stendiamo un velo pietoso poi sul selciato antistante l'ultimo restauro degno di tal nome e come segna la targa è stato effettuato ad opera di privati nel lontano 2003 ben 16 anni fa superfluo ogni commento come superfluo è il commento ad un'altra incresciosa situazione segnalataci dai commercianti a pochi passi dalla fontana e dai mercatini via del teatro un buco nero nella città metà spesso di ubriachi ed essere il vespasiano della città a cielo aperto basta passarci a piedi che l'odore acre dell'urina e degli escrementi ti riempie le narici e questo sì per l'inciviltà di alcuni ma anche per la mancanza cronica in città di servizi igienici pubblici decoro urbano cercasi il movimento 5 stelle di Fano interviene sul tema della mobilità sostenibile e sulla città dei bambini sentite anche con delle proposte oggi abbiamo una proposta per la nostra giunta per una mobilità sostenibile a basso costo Fano è la città dei bambini da più di 25 anni che è stata proclamata città dei bambini per portare avanti questo progetto sono state fatte alcune cose inizialmente poi dopo ci si è praticamente fermati nel quartiere di Sant'Urso e anche in altri quartieri è partito questo progetto però ci sono delle cose che si possono fare davvero con poco costo e che si possono realizzare velocemente che permetterebbero una mobilità diversa sostenibile a misura di bambino e in sicurezza oggi presentiamo un progetto che abbiamo avuto noi con i nostri tecnici che ci permette di andare in sicurezza in bicicletta dal Torrente Arzilla fino al Palazzetto dello Sport ovvero una ciclabile che dalla fine della ciclabile Fano Pesaro Torrente Arzilla passiamo alla spiaggia dell'Arzilla si costeggia il Torrente Arzilla si passa al quartiere della Trave cimitero città stadio e il Palazzetto dello Sport la cosa importante è che ci sono dei tratti già destinati alle peste ciclabili però sono totalmente non in sicurezza con questo progetto invece si potrebbero mettere davvero in sicurezza con poca spesa e anche in pochissimo tempo realizzando un percorso davvero sicuro per le biciclette in modo tale che si potrebbe cominciare a mettere in pratica quelli che erano gli orientamenti della città dei bambini ovvero mettere al primo posto i bambini ed i pedoni le macchine per ultimo con questa ciclabile ci si permette permettiamo a tutti di attraversare la città con sicurezza e davvero con poco costo ed in poco tempo realizzabile in poco tempo Bene, adesso andiamo nella vicina Mondolfo perché grazie a dei fondi extra due scuole due istituti scolastici hanno avuto dotazioni e strumentazioni utili all'apprendimento per i loro studenti sentiamo quali Si decurtano lo stipendio del 10% ed i fondi ricavati vengono ridistribuiti attraverso le iniziative mirate e condivise nella città sono il sindaco e la giunta comunale di Mondolfo sei amministratori che con questa iniziativa ogni anno rimettono in circolo occhio e croce 11.000 euro creando così un circolo virtuoso tra amministrazione e comunità Era uno dei nostri punti del programma amministrativo quello del risparmio e la riduzione delle risorse e dell'indenità di sindaco e assessori a favore di progetti per la città ritengo sia un gesto importante che l'amministrazione comunale fa proprio per migliorare il posto in cui viviamo in questo anno ci siamo concentrati sulle scuole e gli istituti comprensivi ci hanno fatto questa richiesta che abbiamo accolto volentieri Su come e dove quindi riversare il tesoretto lo decide la comunità nel segno della totale trasparenza quest'anno si è deciso grazie al concorso di idee di dotare due istituti scolastici comprensivi cittadini di supporti didattici innovativi come le lavagne LIM monitor interattivi pc e notebook per rispondere alle sfide sempre più incalzanti a cui la scuola va incontro e per essere partecipi delle dinamiche comunicative ed educative dei cosiddetti nativi digitali gli istituti sono il Fermi di Mondolfo e il FAE di Bruno di Marotta già dotata di innovativi mezzi di interazione didattica come i Robot Now e Pepper utilizzati per l'inclusione scolastica ringrazio l'amministrazione comunale di Mondolfo che ci ha donato queste strumentazioni sono andate ad arricchire il nostro laboratorio di informatica che già era diciamo costituito da una buona attrezzatura ma in questo caso con il TV Touch ha aumentato ancora di più la sua innovazione e quindi questo rende le lezioni per i ragazzi molto innovative ormai l'innovazione tecnologica permane in tutta la nostra attività e quindi anche la scuola si deve adeguare deve fare in modo che le nuove generazioni sappiano utilizzare le nuove tecnologie in modo critico che non diciamo abusino delle tecnologie ma le sappiano utilizzare questa tensione che l'amministrazione ci ha mostrato è stata per noi un elemento di grande importanza la cosa poi importante è che ci hanno offerto una donazione come potete vedere i ragazzi usano quotidianamente la LEM oppure in questo caso il televisore Touch nelle loro attività didattiche perché siamo dell'idea che comunque la tecnologia informatica la TIC nella didattica è comunque un valore aggiunto è un modo per avvicinare la scuola ai nuovi modi di costruire la conoscenza che caratterizzano i giovani di oggi i cosiddetti nativi digitali sono solo che cosa oggi bene e per le iniziative gli eventi che contraddistinguono questo periodo dell'anno andiamo a Montecchio di Valefoglia dove continuano e fermano i preparativi per la prima edizione della mostra mercato del tartufo pregiato e l'olio nuovo il servizio è di Francesco Salvago proseguono i preparativi della mostra mercato del tartufo pregiato e dell'olio nuovo che si svolgerà a Montecchio nel comune di Valefoglia nelle giornate del 7, 8, 14 e 15 dicembre una manifestazione nuova del territorio che presenta alcune particolarità tra cui il luogo scelto per allestire l'evento nelle prime due giornate in via Pio alla torre a cui verrà dedicato spazio a eccellenze territoriali insieme ai due protagonisti il tartufo e olio mentre nelle due giornate successive il 14 e 15 dicembre la manifestazione assumerà l'aspetto del Natale che non ti aspetti e si sposterà in Piazza della Repubblica la manifestazione organizzata dalla Proloco di Montecchio concederà anche ampio spazio all'animazione e intrattenimento con il mago Andrew Magic Show Pizzica Salentina e nel secondo fine settimana ci saranno molte attività riservate più piccoli con esibizioni musicali laboratori e stand con arti e mestieri un'opportunità di conoscenza di longevità perché i prodotti tipici locali mangiare bene vuol dire anche campare a lungo e diciamo ci consente anche di far conoscere quell'aspetto che non è solo quello di una città industriale che punta alla piena occupazione ma far conoscere anche i prodotti locali far conoscere il territorio sono diverse opportunità che da sabato mattina alle 10 il 7 qui in via Piola Torre a Montecchio di Vallefoglia il pomeriggio alle 16.30 sarà l'inaugurazione questi due weekend due opportunità molto importanti che speriamo siano fortemente apprezzate dall'opione pubblica e speriamo contiamo anche che ci sia il tempo buono il tempo dà sempre una grande mano soprattutto per le manifestazioni open e adesso andiamo ritorniamo anzi a Fano per il Natale più qualcuno l'avrà già visto a girarsi già dallo scorso fine settimana per le vie della città è bianco e azzurro fischia come un treno dei vecchi tempi ma è il Brico Express capiamo dove prenderlo come prenderlo e quando prenderlo nel servizio le cui immagini e il montaggio sono state curate da Filippo Pucci è tra le principali attrattive di questa edizione del Natale più di Fano è il trenino desiderato sognato voluto fin da quando il Natale fanese è diventato Natale più e quest'anno finalmente è arrivato il Brico Express mette tutti d'accordo grandi e piccini per motivi diversi ma sicuramente durante il tragitto sia gli uni che gli altri troveranno certamente soddisfazione e divertimento il Brico Express girerà attorno al centro storico di Fano e darà la possibilità di utilizzare nei giorni previsti i parcheggi periferici della città per potersi godere lo shopping natalizio o solo anche una passeggiata tra le vie illuminate del centro senza avere l'assillo ed il pensiero del parcheggio naturalmente sono otto tappe otto fermate si parte qui dal Foro Boario alla mattina dalle otto e mezza alle dodici e mezza questi sono gli orari il mercoledì il sabato e la domenica sempre otto e mezza dodici e mezza sabato e domenica anche pomeriggio dalle sedici alle venti si parte qui dal Foro Boario poi si va alla stazione poi si va di fronte alla Bella Napoli di fronte al parcheggio Van Vitelli poi le mura si va a pista del ghiaccio poi alla Rocca dalla Rocca andiamo al Pincio dalla Pincio dove c'è il parcheggione della caserma poi da lì entriamo in via Cavour ci fermiamo davanti il Barberto poi da lì a San Patermiano torniamo qua in ogni punto c'è un cartello 70% dove ci sono gli orari e le giornate che funziona il trenino il percorso dura una ventina di minuti e oltre a collegare i parcheggi principali attorno alla cintura del centro storico di Fano dà la possibilità a coloro che salgono su questo trenino di guardare le principali attrattive e monumenti della città di Fano e magari si scende si visita il posto dove si è arrivati e si risale per finire il giro è sicuramente un modo nuovo per vivere il Natale in città come avviene anche in altri luoghi inoltre si toccano anche le maggiori attrattive di questa edizione del Natale oltre che i monumenti di Fano come Magic Sand o la fantastica pista di ghiaccio per poi arrivare da Via Cavour nel cuore della città ecco per chi parcheggia qui se vuole andare con un euro con un euro fino a 12 anni i bambini non pagano perciò pagano solo i grandi uno fa tutto il giro le tappe che vuole la fermata e praticamente poi se uno vuole quel biglietto che uno ha in tasca va al brico e viene restituito l'euro in più un'altra promozione del brico che se uno fa una spesa per il mese di gennaio di 100 euro con quel biglietto ha 20 euro discorso è una manifestazione un evento culturale domani va in scena al teatro della fortuna che tratta di un argomento di estrema attualità in questo momento ovvero sia la grande importanza del linguaggio sentiamo di che cosa si tratta extatica riprende i lavori e si discuterà domani qui proprio a Fano in Sala Verdi di un testo importante del professore Ivano Dionigi che si intitola Osa Sapere uscito per Solferino e abbiamo scelto di presentare questo testo perché tocca un problema che a noi sta molto a cuore come associazione culturale e il discorso è cercare di unire filosofia filologia vale a dire il nostro presente ricco di complessità e noi possiamo cercare di entrare in queste complessità come peraltro Dionigi sottolinea per esempio la questione politica la questione della tecnica se solo se torniamo al monico cantiano vasista aufklärung cioè l'illuminismo come coraggio di sapere autonomia della ragione e torniamo a indagare a fondo i problemi che ci circondano allora questo è un po' il tentativo della filosofia che non è i nostri umanisti valla ce lo insegnano bene mera sofia non è un mero sapere è un cercare di approssimarsi a questo sapere una ricerca continua potremmo anche dire proprio un sapere della ricerca e non solo un amore per il sapere però dicevo in questo è essenziale anche la filologia perché se non torniamo all'idea che il linguaggio è già un strumento che contiene pensiero e quindi la parola è già parlata non riusciamo a capire tutto quello che ci circonda allora quale sarà un po' il filo dunque allora uno degli aspetti fondamentali messi in luce del libro del professor Ivano Dionigi è senz'altro il problema del linguaggio lui dice siamo di fronte ad un appiattimento del linguaggio cosa significa significa che d'altra parte il linguaggio si sta svuotando del suo contenuto sta diventando un linguaggio che non è più teso a comprendere il mondo penetrare nell'essenza delle cose ma un linguaggio teso a colpire simile a quello della pubblicità a catturare ma questo cosa comporta a livello umano a livello di relazione con gli altri e con se stessi che un elemento è lo specchio dell'altro cioè se parliamo male pensiamo male se pensiamo male parliamo male e a questo punto il problema si fa evidente perché se il linguaggio si appiattisce allora si appiattisce lo strumento con cui noi analizziamo il mondo e analizziamo noi stessi bene e con l'approssimazione del periodo natalizio anche quest'anno la redazione di Fano TV vediamo la lieta novella propone il concorso alla scoperta dei presepi lo spazio dedicato alle creazioni dei vostri presepi casalinghi in tutta la regione Marche naturalmente e sarà possibile partecipare soltanto mandando una mail all'indirizzo presepi chiocciolafanotv.it si richiedono due foto del presepi insieme naturalmente a chi lo ha realizzato oppure un video di circa 50 secondi il programma inizierà ovviamente da lunedì 9 dicembre e si concluderà martedì 31 dicembre 2019 quindi forza con le foto forza con i presepi scatenatevi pure e alla fine naturalmente ci sarà per colui che naturalmente raggiungerà la metagoniata del più bello un piccolo cadeau naturalmente a seguire dopo il telegiornale siamo arrivati in fondo ci sarà una nuova puntata di guarda chi c'è e poi uno speciale dedicato proprio ai mercatini di Natale a Monbaroccio allora prima di salutarevi vi ricordo anche il numero che vedete in sovrimpressione col quale potete entrare in contatto con la nostra redazione o farci le vostre preziosissime segnalazioni bene questo è tutto per questa sera l'informazione torna domani mattina alle 7 puntualmente con occhio ai giornali buon proseguimento di serata con i nostri programmi arrivederci grazie a tutti